pillole di non solo suoni la storia della musica passa da noi ed eccoci pronti a riprendere il nostro viaggio questa volta tornando indietro a qualche anno fa è precisamente un tormentone estivo data la stagione in cui ci troviamo degli anni 90 era esattamente l'estate del 1997 quando esplose la cosiddetta Ricky Martin mania il cantante portoricano infatti conquistò il mondo e l'Italia con Undo Stres Maria la canzone era stata pubblicata nel 1996 e con il tempo si era trasformata in un autentico tormentone estivo in Italia infatti spopolò l'anno successivo e contemporaneamente cambiò radicalmente la carriera di Ricky Martin garantendogli la popolarità anche in Europa e negli Stati Uniti ma andiamo con ordine intanto va ricordato che il brano noto anche semplicemente come Maria è stato scritto da Luis Gomez Scolar, Chi sei porter, Ian Blake ed interpretata proprio dal cantante portoricano per il suo terzo album A Medio Vivir del 1995 nel 96 Martin pubblicò il brano come singolo il primo negli Stati Uniti e in Europa la canzone ottenne un enorme successo in tutto il mondo basti pensare che fu numero 1 in Spagna, Francia e Belgio numero 5 in Italia ma anche numero 3 in Germania e Svizzera dunque in un certo paese di lingua latina o ispanica numero 4 in Austria, 6 nel Regno Unito e nei Paesi Bassi negli Stati Uniti si piazzò invece all'ottantottesimo posto possiamo dunque dire che per il cosiddetto re del pop latino come è stato soprannominato Ricky Martin, quel brano fu fondamentale nella carriera per lui all'anagrafe Enrique Martin Morales, cantante, attore, personaggio televisivo portoricano appunto, classe 1971, figlio di uno psicologo e di una ragioniera che però divorziarono quando Martin aveva appena due anni dopo la scuola cattolica dove partecipò al coro alle recite decise di prendere lezioni di musica, canto e recitazione e dopo aver passato molti provini pubblicitari ecco che nel 1982 tentò di entrare nei Menudo una boy band latina composta da tutti i giovanissimi fu però scartato perché era ritenuto fin troppo giovane e anche non troppo alto ci riprovò però e riuscì a farsi prendere due anni dopo altri 5 anni dopo ecco il via alla carriera solista prima il trasferimento a New York, poi a Città del Messico, poi ancora i primi album i primi due, di successo ma quasi esclusivamente nel mondo latino e cantati solo in spagnolo ecco infine un altro trasferimento, questa volta a Los Angeles nel 1994 dove entra a far parte del cast della sop'opera General Hospital interpretando un barista a questo punto, data anche la notorietà come attore, arriva l'album di svolta mediovivere appunto del 95 che contiene anche il nostro brano protagonista oggi da allora ne sono usciti altri 12 di Vischi e la sua immagine iniziale di sex symbol latino è mutata nel 2008 Ricky Martin infatti ha avuto tramite maternità surrogata due gemelli Matteo e Valentino, è solo due anni dopo però che ha fatto outing sulla propria omosessualità in un libro autobiografico intitolato Me, nella versione in inglese, io in quella spagnola nel quale appunto ha affrontato l'argomento nel 2016 invece ha avviato una relazione con un pittore o un artista siriano con il quale successivamente si è sposato esattamente a gennaio del 2018 nel frattempo sono nati altri due bambini sempre tramite maternità surrogata mentre Martin ha fondato anche una fondazione a proprio nome che con il progetto People for Children ha lo scopo di combattere lo sfruttamento minorile Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!